no ragazzi è incredibile, è incredibile no ragazzi è vero buongiorno buongiorno hai visto? poi è andato a finire così abbiamo messo il pezzettino di come ci sono tre montati delle sede temporale, lampi, tuoni ora anche stamattina comunque il tempo non promette bene quindi diciamo come si dice se fa la conta dei danni aspetta ti lascio aspetta che faccio salire Teddolino c'ha paura da ieri sera no guarda e non ce la fa niente a mattare praticamente danni noi niente no per fortuna no no questi pezzi di albero ma vabbè è andata bene che non ha tirato di niente c'era un vento fortissimo quello sì il vento era un vento era forte ha piovuto vabbè noi abbiamo dormito un pochino più freschi no? sì no è andata bene dai guarda l'altro lì sì no vabbè è Teddi nascosto ah perfetto guardate le orecchie indietro che ha Teddi oh mamma c'è una paura mortale del temporale infatti rituona e piove comunque dai ora vediamo come organizzarci se rimanere forse nel tuccio qui fa che piove vediamo un po' adesso guardiamo un po' le nostre super applicazioni del meteo oppure se smontare tutto anche se bagnato mettiamo tutto sopra e poi magari si verrà intanto adesso facciamo un caffè così almeno si inizia la mattinata se no non mi sveglio ma a dopo buongiorno di nuovo buongiorno siamo partiti allora abbiamo deciso di di smontare tutto sistemare e partire visto che c'era solo più vento il tempo si è rimesso il tempo si è rimesso e destinazione tanto si va tanto andiamo un paio di idee ce l'abbiamo però non sappiamo ancora bene noi intanto si va tanto di chilometri ce ne ha da fare per me si troverà eh sì ve lo diciamo dopo vero amore certo ciao allora mentre noi si passava con la macchina per andare dove si deve andare abbiamo fatto una frenata abbiamo preso uno sterrato guardate dove vi abbiamo portato li abbiamo trovati che figli sono sono belli eh ma poi cercali cercali aspetta che prima devo vedere qua se non mi uccido a salire cercali cercali poi non li trovo quando te lo aspetti tac proviamo a cercare un altro posto comunque sono contento di averli trovati anche Teddy chi non si muove di più vuole andare giù Teddy non si può andare giù beh andiamo a vedere se c'è un altro posto siamo rimessi in macchina la mia gioia è stata interrotta subito da Abe che ha appena montato in macchina mi ha detto sono contento di aver visto i perlicani ho sbagliato mamma mia e con i finicotteri chiudiamo questa clip ciao gente comunque il tempo non promette niente di buono eh si sentono dei tuoni c'è un cielo nero però anche in questo tempo brutto bisogna trovare sempre il meglio delle cose rilascia dei colori che sono fantastici sì è vero è vero beh lo va detto quello che va detto va detto ora però comincio a aver fame e questo va detto anche questo guarda 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 il nero non so quanto si vedrà però è nero va di immaginare la strada via a dopo ciao stiamo arrivando a Portopino e questa è la situazione meteo non bella però sarà sicuramente bello Portopino ora andiamo a vedere che altro dobbiamo trovare un distributore perché il discorso di assete sì sì dobbiamo fare gasolio ma guarda che buco le ho cioè sotto proprio ci stiamo andando eh sì 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 vabbè noi siamo mica fuori eh senza ombrello la veranda direi proprio di no direi di no che è un po' a quest'ora cosa abbiamo preso scommetto che gli è caduto uno no no andiamo a vedere dove porta questa strada passiamo su la perda la perda Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sulle dune. Adesso vi faccio vedere un po', eh? Grazie a tutti. Il dito non decolla neanche perché sono vicino all'abbazionanza e quindi ve lo facciamo vedere per quello che si... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.